ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi sono felicissimo perché guardate un po questa è una lastra d'acciaio con delle incisioni a colori quindi vedete delle tabelle di prova per capire come impostare il latte per ottenere le colorazioni che preferiamo e quassù abbiamo questa incisione colori una rosa con tonalità del blu è una rosa con tonalità del rosso e del viola ho pubblicato le fotografie di questa lastra anche alcuni video nel nuovo gruppo del quale vi invito ad iscrivervi numerosi perché sta crescendo rapidamente ed è il gruppo che ho creato dedicato alle incisioni laser a tutti gli appassionati di incisioni nel quale si può parlare chiedere consigli condividere propri lavori eccetera il gruppo sta crescendo velocemente nel giro di circa un mese già siamo quasi mille quindi andate ad iscrivervi perché trovate tanta gente preparata e tanti appassionati come voi ma torniamo a parlare di questa incisione guardate acciaio inox con diverse colorazioni qua abbiamo diverse sfumature passiamo dal bianco e rosa al verde l'azzurro il giallo ragazzi tantissime tonalità e qua queste due rose utilizzando quindi come riferimento queste tabelle hanno queste colorazioni le ho realizzate utilizzando il incisore laser scoop fan s 30 pro max con un modulo laser da 20 watt già vi ho fatto conoscere ls 30 pro con il modulo 10 watt questo invece ne ha 20 e vi lascerò il link per poterlo comprare scontato presso il sito da cui mi è stato spedito ora facciamo però una cosa cambiamo inquadratura concentriamoci su questo tipo di lavoro anche se effettivamente ancora solo in fase dei test e nonostante le fasi dei test già ho raggiunto questi risultati quindi vi dirò quello che ho fatto ma non potrò darvi dei parametri e dei riferimenti precisi che mi sono accorto che alcuni fattori vanno ad influire su altri quindi devo approfondirlo per poter bene parlare per bene cambiamo inquadratura guardiamo per bene questi risultati e facciamo delle prove sia sulla pelle sull'ecopelle sul legno eccetera vediamo come si comporta questo modulo da 20 watt di questo scoop fan s 30 pro max iniziamo quindi ci siamo incisore acceso aspiratore pronto light burn aperto farò questa linea per poter tagliare questo pezzo di abete da 19 mm e vedremo quanti passaggi sono necessari ci sono tanti increduli che effettivamente non riescono a rendersi conto che effettivamente un incisore così potente riesca a tagliare un pezzo così grosso quindi facciamo tutto in diretta light burn linea viola 400 mm al minuto 90 per cento di potenza in realtà dovrei utilizzare questa protezione che va messa nella parte frontale ma l'ho tolta per farvi vedere tutto con la massima trasparenza e questo cilindro serve per poter emettere a fuoco indosso gli occhiali dei quali vi lascerò il link perché gli occhiali devono essere certificati devono essere di buona qualità e devono funzionare ok ho attivato anche la funzione di air assist automatico quindi 10 passaggi ma io fermerò ovviamente l'incisione quando mi renderò conto che penso si sarà staccato quindi diamo il via ho dimenticato di accendere però l'aspiratore quindi ok adesso acceso guardate già siamo praticamente a metà se non più di metà ha quasi tagliato tutto siamo al terzo passaggio secondo me con il quarto dovrebbe staccarsi vediamo ok si è staccato quindi interrompo vediamo forse non si è visto ragazzi perché l'ho concentrato nello staccare il pezzo ma guardate nello staccare incisione non ci sono nemmeno segni di bruciatura una meraviglia stiamo parlando di 19 mm tagliati senza problemi in quattro passaggi con una potenza del 90 per cento qua abbiamo la conferma tagliato in 25 secondi quindi un lavoro eccezionale un incisore che funziona benissimo vabbè ma 20 watt voglio dire deve per forza lavorare bene e questo non mi ha deluso assolutamente diamo un'occhiata al modulo ragazzi non vi faccio vedere il resto della struttura perché praticamente la stessa dell'est 30 pro ma dalla linea s30 hanno aggiunto pure questi sensori di fine corsa e anche il compressore automatico in questo caso a differenza dell'est 30 pro quindi non l'est 30 pro max abbiamo 24 volt invece quello era da 12 volt per correttezza ci tengo a dirvi che richiede un alimentatore specifico che viene dato in dotazione da 24 volt ed è specificato anche nella parte frontale perché se utilizzate questo modulo sull'incisore laser s 30 pro non so se riesca a funzionare perché richiede una potenza maggiore quindi sia per quanto riguarda l'amperaggio ma per quanto riguarda il voltaggio l'altra differenza è nel tubicino che in questo caso è in silicone morbidissimo un silicone blu opaco il resto è praticamente lo stesso la messa a fuoco si può ottenere grazie a questo cilindretto infatti la distanza dalla base del nostro modulo fino alla superficie da incidere deve corrispondere all'altezza dello stesso e per poter regolare quindi sollevare ed abbassare il modulo bisogna agire su queste quattro pomelli però come vedete questi sono facili da svitare ma questi in base all'altezza che raggiungerete abbiamo l'ostacolo di questa barra nulla di possibile si può fare senza nessun problema però se fosse stato studiato diversamente sarebbe stato meglio e adesso è arrivato il turno di dare un'occhiata al nostro modulo laser quindi s30 pro max all'interno di questo modulo abbiamo 4 diodi da 6 watt ciascuno che sarebbero 24 watt in realtà ma per via degli specchi le lenti eccetera si riducono a 20 watt potrebbe arrivare anche a 22 a poco di più comunque dichiarano nominali 20 watt sulla parte bassa abbiamo l'ugello come vedete viene convogliata l'aria tramite questo tubigino che come vi dicevo è antipiegatura anche se lo piegate ritorna nella sua posizione questa è la grande ventola che effettivamente non è silenziosa ma per raffreddare questo mostriciattolo effettivamente un po di aria ci vuole e questi sono i pomellini che ci permettono poi di posizionare la protezione in plastica rossa scusate se sentite la mia bassotta che mi chiama non volete rimanere sola ma allora questa va messa qua poi va bloccata con i pomellini lateralmente abbiamo anche la scomatura per il tubigino e ci permette anche di regolare l'altezza e eventualmente di inclinarlo leggermente io vi consiglio se non avete alla necessità come ho fatto io per via delle riprese eccetera di utilizzarlo sempre perché effettivamente filtra e filtra bene ma non dimenticate mai di utilizzare gli occhialini protettivi perché gli occhialini che vi lascerò nel primo commento nella descrizione possono salvarvi la vista quelli che vengono dati in dotazione invece non vi consiglio solitamente di utilizzarli e adesso passiamo alla pelle e alle copelle sto facendo dei ritagli a forma di sicilia per dei lavori artigianali andranno cuciti quindi vedrete anche dei puntini minuscoli da circa un millimetro ho impostato una velocità di 800 mm al minuto con l'80 per cento di potenza per i tagli sulla pelle invece sull'ecopelle mille millimetro al minuto 80 per cento di potenza sempre un solo passaggio con air assist in questo caso lo stavo dimenticando qua invece è inserito quindi diamolo ok e siamo pronti per iniziare con un solo passaggio vediamo quindi come si comporta e anche in questo caso tranne per i riempimenti utilizzerò l'air assist che permette di avere dei tagli più puliti anche sulla pelle in questo momento sta facendo il riempimento dell'iniziale nella zona centrale quindi l'air assist non è attivato ma quando si attiverà per effettuare i tagli vedrete che partirà in automatico perché ho impostato tutto tramite software adesso però facciamo una ripresa accelerata come vedete grazie alla sua grande ventola sulla parte superiore anche se l'air assist non è inserito comunque esce un poco di aria e questo lembo di ecopelle si abbassa perché viene spinto appunto dalla stessa ma con l'air assist noterete una grandissima differenza nella facilità di taglio e nella pulizia dello stesso dopo che avrà completato il riempimento di queste iniziali farà il contorno delle stesse ok quindi questo è il contorno delle iniziali che va a definirle infatti adesso si vedono molto molto meglio c'è un minimo di riempimento e poi linea iniziale rimarcata con il contorno sia sulla pelle che sulle pelle ma adesso siamo senza era assist e voglio riprendere il compressorino perché dovrebbe iniziare a vibrare quando si accende ok la vibrazione non si vede però sicuramente sentirete il rumore questi sono i piccoli forellini che poi consentiranno di eseguire la cucitura ok e adesso sta eseguendo il ritaglio nemmeno a dirlo con un solo passaggio ovviamente si separerà senza nessun problema dove c'è questa gobezza ovviamente sarà un po fuori fuoco ma purtroppo con la pelle con tutti i materiali che non sono rigidi si corre questo rischio e stesso lavoro quindi sulle copelle vi ricordo di utilizzare sempre un aspiratore perché i fumi non sono mai da respirare qualunque sia il materiale che state tagliando oppure incidendo quindi lavoro eseguito perfettamente riduciamo lo zoom stacchiamo ed è tutto ritagliato a meraviglia perfettamente sia sulle copelle con i microforellini tutti perfetti quindi molto molto preciso lo stesso per quanto riguarda l'iniziale rispetto a mettere a fuoco ecco così dovreste riuscire a vederlo bene e questa invece è vera pelle pelle che si utilizza per i divani in questo caso verrà utilizzata per una decorazione come lavoro eccezionale adesso però concentriamoci su quello che siamo riusciti ad ottenere riguardiamo quindi il taglio sul legno ragazzi 18 mm 90 quindi praticamente 19 mm prendiamo un calibro facciamo una misurazione davanti a voi anche se già questo l'ho tagliato con altri incisori quindi conoscete lo spessore siamo a zero guardate abbiamo 18 mm e 80 quindi 19 mm tagliati in quattro passaggi davanti a voi in 25 secondi circa quindi velocissimo effettivamente molto molto puliti non è nemmeno carbonizzato questo è semplicemente un color nocciola che non sporca quindi davvero eccezionale con questo sì che potete riuscire a ottenere anche dei manufatti tra virgolette che abbiano delle forme complesse che con altri incisori laser oltre a non riuscire ad ottenerlo sto parlando di incisori laser meno potenti quelli da 20 watt più o meno riescono a fare quasi tutti la stessa cosa però questa pulizia non è riuscito a ottenerlo con nessun incisore perché il compressore è davvero molto molto potente unica pecca che non si può regolare la potenza quindi avremo sempre la potenza al massimo ma ben venga se il risultato è questo mi piace poi tutti i ritagli che avete visto su queste sicilie ne avevo già fatti tanti altri ne ho ancora da parte perché è un lavoro che mi è stato commissionato quindi guardate davvero fatto benissimo questa è vera pelle tagliata ritagliata incisa a perfezione anche questi micro buchetti da un millimetro circa eseguiti perfettamente però guardiamo quello che mi ha sconvolto quindi la possibilità di incidere a colori allora cosa accade quando si utilizza un incisore laser di questo tipo essi vogliono ottenere questi colori quali sono i parametri da utilizzare guardate quello che c'è scritto in queste tabelle quindi vi rendete conto che ho utilizzato un intervallo di linea da un millimetro poi invece da 0 6 e qua da 0 3 questo invece da 0 18 quindi ci sono delle differenze di calore che andiamo a dare alla superficie e come accade per esempio nelle saldature quando si salda in base al calore che riceve l'acciaio si hanno dei punti di fusione differenti e quindi il colore cambia quindi metterò anche delle immagini di alcune marmitte saldate per esempio a tig in acciaio inox anche in quel caso vedrete questa tonalità di colore ma metterò anche una tabella con dei pezzi d'acciaio dei rettangolini in cui si vedono le differenze di colori in base alla temperatura solo che effettivamente guardate nonostante io abbia questa scala di colori che è quasi simile su ogni tabella in realtà poi ci sono delle piccole differenze quindi basta davvero pochissimo per poter cambiare diciamo che le tonalità del blu si ottengono quasi sempre con le stesse impostazioni quasi cambia leggermente la tonalità qua abbiamo un azzurro passiamo dal blu all'azzurro qua invece è quasi tutto blu manca l'azzurro poi in base a come inquadro ecco così è più naturale quello che riesco a vedere effettivamente io guardate che differenza di colore abbiamo una gradualità maggiore rispetto a questa però qua abbiamo il rosa che qua non abbiamo è anche qua quindi io ho utilizzato una combinazione di questi parametri per ottenere questa rosa questa l'ho fatta più facile ho preferito utilizzare i colori che vedevo più frequenti nella tabella e sono riuscito a ottenere questa rosa con il gambo color verde questo lasciato in comune su entrambe qua ho voluto fare delle foglie che fossero praticamente quasi appassite quindi sul marroncino qua invece un po più sul violetto perché la rosa aveva questa tonalità viola blu e poi mi sono accorto che con alcuni lavori eseguiti su un altro pezzo molto vicini cambiava tonalità perché noi abbiamo detto che l'acciaio cambia colore in base alla temperatura guardate qua dove finiscono le foglie effettivamente il calore che abbiamo dato queste foglie ha influenzato anche quest'altro quindi il colore sull'azzurrino poi passa al verde perché è perfettamente allineato la stessa cosa qua guardate dove finisce poi un passaggio effettivamente sia una variazione di colore perché una temperatura va a influire sull'altra quindi se noi abbiamo intenzione di realizzare un incisione con questi colori dato che questi sono stati incisi vicinissimi fra loro quindi come accade qua anche qua avremmo potuto ottenere lo stesso tipo di risultato perché c'è molta vicinanza fra di loro devo fare delle stesse prove però con dei quadratini più distanti in zone differenti altrimenti se qua raggiungiamo una certa temperatura poi vado a fare un quadratino vicino ovviamente questo potrebbe influire influenzare il risultato finale però guardate io vi lascio questa inquadratura in modo che riusciate a fare un fermo immagine rendervi conto poi di quali siano i parametri ma metterò tutte le inquadrature durante la realizzazione ragazzi per me è meraviglioso cioè riuscire ad ottenere questo risultato quindi immaginate quante cose si possano realizzare dei paesaggi dei ritratti anche targhe per esempio per premiazioni eccetera con questa colorazione secondo me vengono fuori dei risultati spettacolari ma solo sull'acciaio inox devo ancora approfondire l'argomento quindi non voglio fare professore come non ho mai fatto io sono un hobby sta conosco alcuni dettagli o chiedere di condividerli con voi ho la possibilità di provare alcune attrezzature la possibilità di farvele conoscere e mi limito a questo ma sono soddisfattissimo di questo risultato per me riuscire a ottenere un risultato di questo tipo in un incisione laser con il diodo sull'acciaio era un sogno dopo circa due giorni in interrotti di test ora sono riuscito a ottenere questi risultati ma ricordatevi che dovrete utilizzare velocità e potenze differenti ma dovrete anche utilizzare degli intervalli di linea differenti se non conoscete questo argomento iscrivetevi al gruppo facebook vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione dove troverete sia me che tante altre persone che lo fanno anche per lavoro quindi sono molto preparate e che quindi possono darvi anche qualche consiglio e ora godiamoci tutti i video durante la realizzazione di queste tabelle e durante l'incisione di queste rose grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e allora ragazzi quindi iscrivetevi al gruppo facebook dedicato alle incisioni laser perché frequentando i gruppi facebook frequentati da persone che ne sanno si può imparare tantissimo io stesso pur avendo creato questo gruppo da tantissimi utenti riesco ad apprendere tantissime informazioni sia esperti che meno esperti perché una cosa la sa qualcuno una cosa la fa qualcun altro ci si scambiano i vari pareri e si riescono ad ottenere diversi risultati anche se questo ancora non l'aveva trattato nessuno per quanto riguarda il taglio sul legno ragazzi c'è c'è sempre qualcuno che non crede ai video perché dice vabbè ma tu hai fatto le riprese ha fatto dei tagli quindi chissà quanti passaggi ci sono voluti no avete visto quattro passaggi tagliato senza problemi senza bruciatura meraviglioso ma guardate ragazzi io vi lascerò il link per poter comprare questo incisore laser perché se avete un'attività se volete comprarlo per passatempo per hobby riuscire a ottenere questi risultati potete farlo solo con degli incisori laser di buona qualità e questo lo è quindi link nel primo commento nella descrizione sia del gruppo facebook che del sito da voi potete comprare questo incisore scontatissimo ci vediamo a tutti i prossimi video vi invito a mettere mi piace cliccando su pollice male in su cliccate anche sulla campanella per attivare notifiche ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto